Come dice un proverbio russo, il formaggio è gratis solo nella trappola per topi. Oggi parleremo di software gratis, di software libero, di scarsità, di abbondanza e di chi alla fine dovrà pagare il conto. Benvenuti su Merita, il podcast per chi fa impresa. Io sono Giorgio Minguzzi e oggi vedremo insieme una domanda che è meglio non lasciarsi mai scappare davanti a collaboratori, amici, parenti e soprattutto davanti ai clienti. Oggi parleremo di scarsità, di abbondanza, della legge di attrazione, del software gratuito, parleremo di tantissime cose. Datemi 5 minuti però perché vi devo fare una premessa. Mentre facevo una consulenza, il cliente con cui parlavo mi fa vedere alcune email che regolarmente riceve. Ora, il contenuto delle email si sostanzia in una richiesta di prodotti gratis. Vi do qualche elemento per capire il contesto. Unicommerce con prodotti fisici, se vende guadagna, con il guadagno paga i dipendenti, le spese, il magazzino, il rinnovo del prodotto, i miglioramenti sul prodotto, la spedizione e così via. Ogni settimana questo imprenditore riceve richieste, anche via lettera cartacea, anche via lettera cartacea, incredibile, in cui i clienti chiedono più o meno gentilmente di avere prodotti gratis. Ora, vediamo alcune caratteristiche che accomunano i richiedenti. Tutti i richiedenti si dichiarano innamoratissimi del brand. Strano, non esiste nemmeno un ordine al loro nome, però loro sono davvero innamorati del brand. I più educati chiedono sommessamente a proposito dell'esistenza di un fantomatico programma d'ambassador che consentirebbe loro di ricevere merci in omaggio. Sul sito non c'è niente di questo, però loro se lo inventano e lo scrivono. Altri invece sono davvero sfacciati, vanno dritto al punto, vanno al sodo e offrono visibilità in cambio di una lista dettagliata di oggetti che vogliono avere gratis. Ora, gente strana quella che è così innamorata di un prodotto, da non averlo mai ordinato manco una volta nel sito del produttore. Ora, gente così infuocata di passione che non vede l'ora di sostenere la crescita di questa azienda chiedendoti della roba gratis. Ora, cosa penso di questi tentativi? Beh, penso che siano mosse un po' disperate da scrocconi patentati, fatte da persone che comunque non hanno sicuramente voglia di spendere soldi e di interagire con la nostra azienda, i nostri prodotti eccetera. Perciò credo che siano in buona parte perditi di tempo, ok? Ora però non voglio parlare degli influencer scrocconi. Chiarisco subito che non voglio fare una puntata su, non so, la mini influencer che prova a scroccare una notte gratis in hotel. Se non lo sapete, per quei pochi che non lo sanno, chi fa impresa è parecchio infastidito dalle richieste degli influencer di mangiare, dormire e avere prodotti gratis. C'è chi è stufo dei piccoli ricatti di questi fantomatici suonatori di piffero magico che, preso dall'esasperazione, ha deciso poi di esporre al pubblico ludibrio le lettere ricevute dagli influencer, no? In queste lettere qualcuno arrivava anche al ricatto del tipo se non mi accontenti ti lascio a recensioni negative su TripAdvisor, parlerò male di me, di te alla mia audience eccetera. Ma non voglio assolutamente parlare di questo aspetto perché di questi scrocconi è pieno il mondo e alla gente piace scroccare. È brutto da dire ma è vero. E se qualcuno ha la faccia di bronzo per chiedere con duemila follower su Instagram di poter scroccare, beh forse ci vuole anche del coraggio a fare figure così meschine e quindi forse, beh forse bisognerebbe premiarli davvero. Ora però non voglio parlare nemmeno dell'altro lato della medaglia. L'altro lato della medaglia è quello che se fate una ricerca sul web digitando asking for free stuff cioè chiedere cose gratis, trovate mille risorse, diecimila esperimenti, quattromila tutorial per fare in modo che l'agente comune scriva alle aziende ed ottenga prodotti gratis. Ora trovi incredibile che poi molti di questi esperimenti abbiano esito positivo cioè che siano in grado di ricevere come risposta della merce in maniera gratuita perché sì ci sono delle aziende che se chiedi dei prodotti gratis te li danno ed è chiaro che se poi droghi così un mercato la gente si abituerà ad alzare sempre più l'asticella. Tanti anni fa lavoravo per un mega e-commerce del settore idrotermosanitario e si partiva regalando dei coltelli da cucina e si è finiti per fare in modo di regalare dei televisori a seconda di quale caldaia l'idraulico potesse comprare. Ora un mercato più drogato di quello io non l'ho mai visto. Ma è chiaro che se poi però lo droghi così il mercato l'agente si abitua si abitua e vuole poi sempre di più gratis. Quello che però voglio condividere oggi non è questo tipo di gratuità è un'altra. Vorrei parlare di un atteggiamento che troviamo diffusissimo a tutti i livelli dai freelancer agli imprenditori dai commerciali ai tecnici ed entriamo quindi nel merito della puntata. Il merito della puntata perché? Perché volevo parlare di quella frase, quella domanda è meglio dire domanda che è un po' il male di questi tempi e la domanda è è gratis? È gratis? Ora da anni segnalo e recensisco dei software e delle app sul podcast. Gli ascoltatori di vecchia data lo sanno ecco, lo sanno bene capita spesso che nelle conversazioni con clienti, amici, parenti si parli di app, di app di produttività e diciamo che venga fuori questo tipo di discorso diventano un argomento di conversazione lavorando a progetti con fornitori e clienti capita che ci si scambi consigli su come e cosa usare dai usiamo Asana per questo progetto dai usiamo Basecamp ma che è più semplice da utilizzare è meno complicato così lo puoi usare anche quello là che non sa fare niente ok, scegliamo questo o quello hai visto questo software? E questa infografica? Con cosa l'hai fatta? È così bella ecco, discorsi così capitano a me spessissimo e immagino anche a voi purtroppo però quando desti la curiosità di un interlocutore citando un nuovo strumento o una nuova app appena installata capita spesso che ti interrompa subito con questa domanda ma è gratis? Ora come ve lo devo dire? Non lo so quando qualcuno fa così a me cadono le braccia e non solo quelle ho pensato di spiegarvi con una puntata l'avevo già ipotizzata questa cosa nella puntata sull'SAS Marketing perché questa è una domanda davvero irritante poi perché mi irrita? c'è un motivo ma anche parecchio rivelatrice di cose che non vorreste che sapessero di voi le persone che vi stanno attorno è un atteggiamento diciamo da correggere pensate un attimo a cosa state dicendo e se un comportamento così in ambito professionale sia qualificante per voi e per la vostra carriera e per il vostro rapporto col cliente con cui parlate a meno che non vogliate qualificare appunto come uno scroccone come un opportunista vi invito a pensare che la domanda è gratis sia da fare veramente in rarissime occasioni immaginatevi questa scena e vedete se la trovate con un senso logico avete male a un dente andate dal dentista il dentista prepara la siringa con l'anestetico e dice ora ti metto l'anestetico ma quello gratuito è mica quello che si paga io mica sono scemo che ti do quello buono poi ribadisce oh aspetta aspetta adesso accendiamo il trapano sì ma quello che mi ha regalato quel rappresentante cinese quello gratis mica quello quello che ho di là è caro e poi c'è il frutto dell'università di Bologna delle ricerche usiamo quello gratis del cinese e poi infine dici ok ora ti igienizzo ti faccio tutta la parte però l'igienizzante dai quello gratuito poi non è che vorrai spendere anche te dei soldi quindi ecco chiunque sano di mente percepirebbe questa conversazione come demenziale inverosimile siete d'accordo siete d'accordo di sicuro ok allora dovete spiegarmi come mai la prima cosa che vi viene in mente quando parlate di un'app di un servizio web è se sia gratis o no ha senso questo è un mindset chip un mindset chip è quello che potrebbe chiamarsi poverite ho un amico che l'ha chiamato così mi è rimasto impresso è simpatico come modalità di mindset chip che sembra sempre un'americanata la poverite è un po' tipo la criptonite ed è un atteggiamento mentale che infantizza solo il valore del denaro chi è malato di poverite solitamente è alla disperata ricerca di risultati a breve termine dimostra di essere fondamentalmente un egoista una persona in difficoltà quindi chi è uno che ha un chip mindset chi è malato di poverite ecco chi è malato di poverite solitamente ha la disperata ricerca di questi risultati subito e senza far fatica voi vorreste lavorare con uno così io no io non vorrei affidare le cose importanti della mia azienda a una persona che vive solo di prodotti gratuiti quando chiede subito è gratis in realtà sta fornendo tante informazioni su di lui che sarebbe meglio non rivelare i clienti ai collaboratori purtroppo però chi si ammala di poverite non se ne accorge e cambia questa brutta abitudine questo brutto sintomo in una qualità per prima cosa spesso il commitment di chi chiede subito se è gratis o meno un prodotto è un commitment bassissimo spesso si chiede è gratis e in realtà non si vuole parlare altro che del prezzo dietro la domanda c'è la ricerca di una scorciatoia non si è interessati a che cosa fa davvero quello strumento ora quante persone di successo avete conosciuto che hanno preso scorciatoie e sono arrivate in cima io francamente io nessuna 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 approfondiamo quindi perché qui c'è un po' il cuore della questione la poverita è il mindset dei poveri ma anche dei poveri che hanno i miliardi di euro nel cassetto qualche anno fa entrai in un bar e c'erano un sacco di slot machine erano tutte occupate da migranti poi c'era una persona un'italiana tutta vestita male trasandata tutta sporca con i capelli devastati ecco pensate sia un caso no non lo è non è un caso chi gioca al super enalotto a queste lotterie a questi slot machine che ci sono nei bar più malfamati nella stragrande maggioranza dei casi non è ricco e anche se lo dovesse essere è probabile che nel breve ritorni sull'astrico esattamente come succede a tanti giocatori di calcio che poi finiscono nei debiti o come accade a chi è povero vince alla lotteria una somma gigantesca e poi la sperpera tutta in pochi giorni perché chi è nel bisogno dice di voler avere successo ed essere disposto a fare sacrifici per ottenerlo ma in realtà quello che tutti vogliono fare è il successo senza fatica e senza sacrifici ora quando ci si concentra sul prezzo tanto da tirarlo fuori subito si dimostra che si è concentrati sui soldi e non sui vantaggi del software o del servizio in altre parole si comunica al proprio interlocutore di essere in restrettezze economiche perché prima ancora di capire se questa cosa può essere utile possa rappresentare un'opportunità di guadagno ulteriore si è concentrati su quanti soldi porterà via non si conosce il potenziale dell'app del software ma intuita una piccola parte dell'opportunità il focus lo si pone volontariamente sull'ostacolo sull'ostacolo non è solo una questione di soldi ma indica che si vive in un mondo con ristrettezze non solo economiche anche mentali non c'è da stupirsi se il cliente poi lo stesso ragionamento lo fa di riflesso con noi lavora solo con strumenti gratuiti vorrà dire che il suo lavoro sarà gratuito quasi ora ultimo punto ma non meno importante chiedendo subito è gratis si comunica a tutti che non avete dimestichezza con la parola investimento e con il concetto di ritorno dell'investimento ma come si capisce questo già si parla di uno strumento che semplifica il vostro lavoro che migliora l'output mettiamo il caso di un'app l'output per il cliente che ridona tempo alla vostra vita privata mettiamo il caso che sia un gestore di to do list che vi aiuta a gestire meglio il tempo e voi chiedete se è gratis quanto costa il vostro tempo a volte mi è capitato che il fornitore stesso mi sottolineasse la sua bravura facendomi sapere che lo strumento l'avevo usato ed era gratuito era gratuito non nella versione a pagamento ma nella versione gratis e basta per far vedere che lui aveva fatto il lavoro con poco mentre mi diceva queste cose io invece mi domandavo ora chissà quali questioni sono rimaste irrisolti che avrebbe potuto appurare con la versione a pagamento mentre lui è felice di aver scroccato io mi chiedo che opportunità ho perso io a scegliere un fornitore così che non è in grado di strutturarsi non ha sposato un prodotto ma lo usa solo nella sua versione gratuita ora con questa mentalità come fate poi a farvi pagare e non sto parlando di uno scontro tra titani tipo sobrietà contro poverite se chiedete subito è gratis è molto probabile che vi siate già ammalati di poverite la poverite non è tanto legata ai poveri non è legata al soldo è solo il contrario di quello che si sperimenta quando si vive nell'abbondanza inoltre non è sinonimo di sobrietà la sobrietà è ben diversa la sobrietà la frugalità se volete è stare attenti a non spendere il superfluo perché chi vive con la sobrietà valuta le opportunità e poi le sceglie sceglie se aderire o sceglie se non aderire ma se la prima cosa che chiedete è è gratis voi non avete valutato nulla cercate solo un'ennesima scorciatoia cercavo cercate l'ultima bazza qui nessuno è escluso anche io sto cercando di correggermi perché queste abitudini poi fanno fatica a essere stirpate quando uno le prende quando mi è capitato di ragionare sul prezzo mi sono accorto che gli strumenti io non li avevo mai vissuti come una vera opportunità i software che ho scroccato non li ho mai conosciuti a fondo e non ho mai investito il mio tempo per approfondire tutto quello che avrei potuto fare con loro perché erano gratis e quindi quindi non avevano valore oggi io pago una serie di software alcuni hanno una versione gratuita molto generosa ma siccome sono strumenti di lavoro importanti io investo e li scelgo e quindi li pago e poi questi questi questo pagare mi viene ridato con soddisfazione dal cliente perché vede che faccio meglio il mio lavoro e quindi io li uso a pagamento gli strumenti che ho scelto gli altri faccio fatica ad usarli posso guardare un pochino però poi dopo li lascio lì ma perché facciamo così perché specialmente nel digitale siamo così abituati a chiedere è gratis ora potrebbe essere che l'incomprensione sia nata dall'ambiguità in italiano della lingua inglese capisco che il termine free software abbia potuto trarre in inganno tanti ma è free per freedom perché è software libero non vi è alcuna accezione scroccona nella parola solo che da noi come esercito di furbetti ci sentiamo tutti belli e vogliamo diciamo lavorare sfruttando un povero babbeo sconosciuto che ha deciso di regalare all'umanità il suo tempo il suo lavoro perché in fin dei conti noi pensiamo che sia un minchione pensa che fesso lui è là che lavora e noi io lo uso gratis meno male che ci sono dei pirla come lui ecco credo che un contributo importante lo abbia però anche dato sul web diciamo sulla parte digital un paio di aziende italiane lo hanno dato molto sostenuto la prima è Tiscali perché aveva la sua free philosophy tutto su internet gratis ci ha sgranato veramente per un gran periodo in televisione con l'email gratis internet tutto gratis e la seconda era tutto gratis tutto gratis era un sito dove tutto era gratis ed era uno dei primi siti fatti bene del web ora io non li perdonerò mai per aver fatto in modo che la mentalità comune fosse pregna di questo concetto dove il digitale è legato così inscindibilmente alla parola gratis perché è così solo in Italia ora questo è pericoloso perché poi la legge della trazione ci punisce perché cerco di correggere questo atteggiamento scroccone che è anche in me per via appunto della legge della trazione sapete che cos'è la legge della trazione la legge della trazione è stata trovata perché diciamo ha reso famoso il libro The Secret il segreto che è un testo che negli Stati Uniti ha venduto milioni di copie che solo nel 2007 è arrivato anche da noi in Italia e che definisce appunto questa legge della trazione come la capacità di ogni persona di attirare nella propria vita le cose sulle quali ha concentrato l'energia è una versione moderna dell'antico proverbio chi si somiglia si piglia che in fondo se tu stai cercando una roba poi ti arriva ecco ora essere immersi in una mentalità della scarsità avere la poverite e non saperla è un problema perché ci si sente furbi a cercare la roba gratis da scroccare ma poi ci si lamenta quando ci si attira addosso solo clienti che hanno voglia di pagarci poco e di pagarci male infatti non possiamo piangere quando attiriamo clienti che dicono oh non avevo mica capito che poi l'avresti fatturato eh certo se noi facciamo lo stesso con i software perché non dovrebbero fare l'errore oppure beh ti chiedevo dei consigli via chat eh oh mica mica pensavo che mi mandassi l'onorario da pagare oppure mi sembra che tu abbia alzato i prezzi eh eh il cugino di mio cognato mi ha trovato una bazza incredibile eh me l'ha poi spiegata in due secondi e mi ha detto che che in realtà è tutto gratis e mi stai fregando oppure dai non chiedermi nulla per questo progetto che poi dai si farà pari più avanti no perché dai se troviamo facciamo successo poi dai ti riconosco qualcosa dopo sai che c'è la fila di gente che vuole lavorare gratis per me ora a me capita di essere contattato da aziende che mi chiedono come possono aumentare la fedeltà dei clienti o come possono gestire il rapporto con i clienti in modo strategico e duraturo e quando gli rispondo dicendogli che potrebbero cominciare a usare un CRM e a capire quali sono i percorsi che fanno i clienti la prima cosa che mi chiedono è ne hai uno gratuito da consigliare bene sono gli stessi clienti che nelle brochure scrivono di avere al centro dei loro pensieri il rapporto con il loro cliente e poi quando il cliente li chiama per chiedergli qualche cosa imprecano perché ormai ha già pagato e se chiama sono energie che sprecano ecco dammi retta la mentalità della scarsità della poverite è una mentalità perdente prima l'abbandoniamo prima serviremo clienti migliori bene oggi abbiamo parlato di un sacco di cose abbiamo parlato di perché non ha senso dire è gratis della scarsità dell'abbondanza della legge dell'attrazione tutti gli appunti della puntata di oggi sono lì dove sempre vi aspettano merita.biz barra 207 episodio 207 207 il canale telegram invece sta crescendo tantissimo vi ringrazio tantissimo perché ogni settimana ci sono un sacco di nuovi iscritti telegram.me barra merita biz ripeto telegram.me barra merita biz lì trovate informazioni aggiuntive e tante piccole curiosità bene davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao 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 Grazie a tutti.